La vita importante per la città io credo è proprio questa, penso che se ne debba andare un po' orgogliosi tutti, l'amministrazione, i cittadini nel suo complesso, perché noi dalla fine di 2012 abbiamo pensato che questa dovesse divenire una priorità per la nostra città, ovviamente perché non sapevamo ancora fortunatamente che poi lo scolmatore del bisagno venisse finanziato. Quindi non cinque anni ma tre anni e un mese, i lavori di fatto sono stati consegnati già all'impresa PAC ieri, il che vuol dire che ci sono tutte le condizioni per velocemente avviare un percorso di sicurezza, di mitigazione della sicurezza a questa parte di città che naturalmente non sarà l'unico, andrà ad accompagnarsi a tutta la serie di altri interventi, compreso lo scolmatore, la copertura, il secondo lotto, il secondo stralcio avrete visto che è partito dalla copertura del bisagno. Mi pare un risultato importante per la città sostanzialmente, voglio ricordare appunto, si tratta di Corso Italia, quindi a sbocco a mare, si prosegue su quella galleria e questo permetterà anche di ridurre in maniera significativa i disagi forti sulla città, perché ecco il trasporto poi si effettuerà via mare, tutto in galleria. Mi pare un risultato importante, ripeto, lo dico mantenendo saldamente i piedi per terra, con umiltà perché è una città bella, complessa, ci sarà moltissimo da fare, però questo è una parte di interventi che con il bisagno, con la copertura e con altri interventi sul Ponente e sul Levante, in Valpolcevra contribuirà a mitigare in maniera significativa il rischio, non ad azzerarlo perché la città è veramente fragile e complessa. Tre anni e un mese, la durata è questa, voglio ricordare che fu frutto anche di una tenacia da parte nostra, perché 45 milioni fu il risultato che conseguimmo, lo seguimmo, raccogliendo 25 milioni dal governo Monti, 15 milioni da parte del comune con un mutuo e 5 milioni della regione, ma attenzione, noi siamo andati anche a recuperare una galleria che costò parecchi miliardi di lire, la galleria quella che fu poi interrotta negli anni, negli primi anni 90. Quindi non solo un intervento importante, ma anche il recupero di un costo che gravò sulla comunità a quei tempi, insomma. Come piano trennale, che abbiamo approvato lo schema la settimana scorsa, abbiamo fortemente intensificato e finanziato 1.200.000 euro sulla manutenzione dei rivi, quindi abbiamo quasi quadruplicato, 800.000 euro sulle caritoie, quindi tutta una serie di interventi che ci dovrebbero aiutare in questa fase intermedia a garantire più sicurezza, più pulizia dei rivi, poi ripeto, è chiaro che incrociamo le dita, ma durante alcuni eventi l'intensità delle piogge è tale che davvero ci vuole ben altro. Tuttavia ci stiamo attrezzando anche per questo, noi abbiamo incontrato l'altro giorno gli operatori di Borgo Incrociati, che direi è una delle realtà più complesse, indubbiamente la cosiddetta autoprotezione, quindi la resilienza che si accompagna alla cultura di protezione civile deve passare anche attraverso i comportamenti, ma anche finanziamenti, ricordo che possono arrivare all'80% per coloro i quali hanno subito due alluvioni, questo fa parte di un mosaico, di un puzzle che tutte le questioni vanno messe al loro posto e insieme potremo, io spero, poi poter dire che questa città davvero è più sicura, quindi gli investimenti, il patrimonio, la sicurezza nel suo complesso sarà più garantita nei prossimi anni.